Ciao a tutti. Siamo qui per parlarvi di una notizia recente che coinvolge l'ex concorrente del Grande Fratello e dell'Isola dei Famosi, Matteo Diamante. Dopo aver subito un trapianto di capelli, Matteo ha deciso di condividere la sua esperienza con i fan tramite i social media. In una foto che lo ritrae a distanza di tre giorni dall'intervento, Matteo Diamante si è mostrato senza veli, senza nascondere né le cicatrici sul cuoio capelluto, né le sue emozioni. Tuttavia, ha espresso la sua delusione riguardo a certi amici che non si sono interessati alle sue condizioni di salute dopo l'intervento. Nella didascalia della foto, Matteo ha scritto. A distanza di tre giorni, anche la mia ex ha avuto la delicatezza di augurarmi una buona guarigione. Certi amici manco un «come stai?». Non potevano saperlo. Ho solo postato un video visto da due milioni di persone in due giorni. Comunque tutto ok. Non sarà la fine del mondo? Ma vabbè. Ah, dimenticavo. Edo e i miei amici più vicini ovviamente mi hanno scritto prima e dopo l'intervento. Anche se Matteo Diamante non ha rivelato i nomi degli amici che lo hanno deluso? Ha menzionato che persino Nikita Pelizon si è interessata alle sue condizioni di salute dopo il trapianto di capelli. Ha concluso con un messaggio generale sull'amicizia. Sottolineando l'importanza delle parole e del sostegno reciproco tra amici. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e altre notizie riguardanti il mondo dello spettacolo. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre informati sulle ultime novità. Grazie per averci seguito. E a presto.